Gentili amici di Cuneo24, a tutti, buonasera. Siamo in alta pressione, ovvero vedete anche delle velature, non sono altro che la parte più orientale di un sistema nuvoloso sulla Spagna, ma che non interesserà le nostre zone. Vediamo la situazione, guardate che bel pallone anticiclonico, 1035 hectopascal, quindi è una garanzia di tempo buono. Ecco, questo sistema nuvoloso che vedete tra la penisola iberica, il Portogallo e il Marocco ha delle piogge, delle nuvole e quelle più orientali, la parte più sottile, questi cirostrati e altostrati non sono altro che le velature che ci hanno interessato quest'oggi, ma tenderanno a sparire. Quindi, previsione, domani cielo sereno o poco nuvoloso, qualche cumulo in montagna. Lo zero termico lo possiamo considerare sui 2800 metri oggi, 2600 metri domani. E domani ci sveglieremo in pianura con la temperatura tra 3 e 5 gradi, le massime tra 15 e 17. Non cambierà molto la situazione per il giovedì, quindi sereno, poco nuvoloso. Si abbasserà ancora un po' lo zero termico, 2300-2400 metri, la minima in pianura tra 4 e 6 gradi, le massime tra 16 e 18, quindi farà caldo di pomeriggio. Terminiamo con la giornata di venerdì, allora vedremo qualche nuvola in più. Da poco nuvoloso passeremo a nuvoloso, senza precipitazioni. Uno zero termico tra 2.200 e 2.300 metri, la temperatura minima avrà il coraggio di aumentare un pochino, ma la massima sarà stazionaria. È tutto, grazie e state bene in casa, veramente che può servire a qualcosa. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.